Buongiorno a tutti, sono Giulia, la vostra estetista professionista DB Milano. Oggi ho il piacere di presentarvi la novità dei nostri laboratori, Pure Equalizer, la prima linea cosmetica professionale di DB Milano, che tratta specificatamente, in maniera ammirata e differenziata, le pelli miste oleose e le pelli impure e a tendenza acneica. Perché le imperfezioni non sono tutte uguali. Una linea innovativa, che agisce su un duplice approccio. Fase in, ripristino del corretto equilibrio interno della flora microbica e della pellicola lipidica. Fase out, riduzione delle manifestazioni esterne visibili, come imperfezioni, punti neri e bianchi e segni residui. Le formule contengono il cavallo di battaglia DB Milano, la Multilevel Network Technology. Agiscono perciò sia a livello di prevenzione, sia di performance, con ACN Remedy Complex, dall'azione purificante e lenitiva, e Oil Remedy Complex, dall'azione sebo-normalizzante. Andiamo ora a scoprire i prodotti che vengono utilizzati per i trattamenti Pure Equalizer. Nella fase di detersione utilizziamo Base Perfection, gel micellare detergente contorno occhi e polvere detergente purificante 2 in 1. Nella fase intensiva, nei trattamenti manuali, a seconda dell'esigenza della pelle, è possibile utilizzare il peeling enzimatico ultra performante di Face Perfection. Segue il tonico bifasico astringente. Inoltre, se state effettuando il trattamento sebo-equilibrante, proseguite con la maschera opacizzante in biocellulosa. Invece, se state effettuando il trattamento purificante, proseguite con la maschera fango-purezza estrema. Concludiamo con fluido anti-impurità lunga durata, più 24 ore, e perfezionatore Flash di Face Perfection. Eventuali fasi di strizzatura nei trattamenti manuali sono da considerarsi facoltativi, a seconda della tipologia di pelle della vostra cliente. Passiamo ora a vedere nel dettaglio i trattamenti Pure Equalizer. Trattamento sebo-equilibrante, trattamento purificante. Per l'utilizzo sinergico con le tecnologie, consultate la specifica guida all'uso. In solo un'ora di trattamento, il viso appare opacizzato, i pori minimizzati, l'epidermide idratata, l'incarnato più uniforme e le imperfezioni ridotte. Si consiglia una seduta a settimana. Suggerire i prodotti di autocura alle nostri clienti è fondamentale. Pensate che dopo il primo trattamento otteniamo una riduzione di produzione di sebo in eccesso dell'8%, alla fine delle cinque sedute del 18% e continuando altre due settimane solo con i prodotti di autocura arriviamo a meno 21%. Per il benessere della pelle delle vostri clienti ricordate di consigliare il loro fluido idratante opacizzante più 24 ore per le pelli miste, grasse e oleose. Crema gel acido pH per le pelli impure e a tendenza acneica. Eliminatore di imperfezione per tutti coloro a cui è inaspettatamente spuntata una piccola imperfezione. E per la detersione della pelle non può mancare polvere detergente purificanti 2 in 1 e tonico bifasico astringente. Non fidarti di chiunque. Per un viso puro chiedi alla tua estetista professionista DB Milano. Pure Equalizer. Trattamenti altamente efficaci dai risultati visibilmente sorprendenti in soli 10 giorni lavorativi. Trattamento sebo equilibrante. Più 23% miglioramento dell'idratazione cutanea. Meno 21% produzione di sebo. Pori e punti neri e bianchi ridotti nell'85% dei soggetti. Incarnato più uniforme nel 90% dei soggetti. Pelle opacizzata non più lucida nel 95% dei soggetti. Donne impazzite ma opacizzate grazie a DB Milano Pure Equalizer. Lo dice il 100% delle donne con pelle mista o grassa che ha approvato il trattamento dichiarando che il trattamento è efficace. La pelle opacizzata per tutto il giorno. La grana della pelle è più uniforme. La pelle è asciutta, fresca, morbida e idratata tutto il giorno. Trattamento purificante. Il primo trattamento testato su pelli a tendenza acneica. Anche dalle giovanissime under 18. Più 21% miglioramento dell'idratazione cutanea. Meno 19% produzione di sebo. Già dopo il primo trattamento i test dimostrano che il sebo si riduce del 9%. Imperfezioni e brufoli ridotti nel 90% dei soggetti. Incarnato più uniforme nel 95% dei soggetti. Soddisfazione al 100% per tutte le ragazze, teenagers e donne entusiaste della loro pelle dopo il trattamento DB Milano Pure Equalizer. Le stesse dichiarano che i brufoli sono attenuati. Il trattamento è efficace e piacevole. La pelle è meno arrossata. La pelle è più pulita, fresca e vitale, levigata e uniforme. E da oggi le pelli impure non le tratti più solo in farmacia. I prodotti domiciliari Acne Remedy hanno dato risultati eccellenti come quelli dei prodotti dermocosmetici più venduti in farmacia per idratazione cutanea, riduzione sebo, uniformità dell'incarnato e addirittura superiori per minimizzazione dei pori, riduzione dei comedoni, effetto opacizzante. Grazie. 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 Grazie.